Prosegue in Aula alla Camera l'esame del disegno di legge antiterrorismo con le votazioni sui circa 230 emendamenti presentati, stralciato su richiesta del Governo l'emendamento che permette intercettazioni preventive sui social e l'acquisizione dei dati sui computer. Atteso poi il parere del Tesoro sull'assunzione di nuovi carabinieri per 4 milioni di euro. L'Aula del Senato è invece impegnata con l'esame al DDL sulla corruzione con il voto finale fissato per il 1 aprile. Sul rinvio pesano infatti le tensioni tra nuovo centrodestra e Governo. Sullo sfondo anche il braccio di ferro tra Grasso e i questori delle Camere sul taglio dei vitalizi ai condannati. Non ci piace la legge anticorruzione all'acqua di rose del PD, non ci piace la politica che tutela se stessa anziché i cittadini. Per questo sfidiamo i partiti e soprattutto il PD a votare la commissione di inchiesta su mafia capitale che oggi abbiamo presentato. E intanto Matteo Renzi decide di premere l'acceleratore sulle riforme, in particolare sulla legge elettorale, convocando per lunedì una direzione ad hoc. Una decisione che non piace alla minoranza PD che ha sempre visto l'Italicum come il terreno di scontro per sfidare il Premier, soprattutto perché, come scritto nero su bianco sulla lettera di convocazione, al termine della riunione si procederà ad una votazione. Un po' come a dire, si vota la linea da seguire e da quella non si devia. Siamo veramente al paradosso. Con il terrorismo, l'ISIS alle porte, che fa Renzi? Blinda e fa il blitz. Uno dice contro il terrorismo? No, sull'Italicum. Siamo veramente alla follia. Con tutti i guai dell'Italia, dell'Europa, con tutto quello che succede, tutta l'attenzione di Renzi e sulla riforma elettorale, sulla legge elettorale, sull'Italicum, il tutto per far fuori o comprare la sua minoranza interna del suo partito. Veramente siamo alla frutta. Inaccettabile questo comportamento, inaccettabile considerare il Parlamento, con le sue accelerazioni, decelerazioni, insabbiamenti, come una dependence di Palazzo Chigi. Il Paese ha bisogno di una nuova legge elettorale. Per questo il Partito Democratico ne ha chiesto la calendarizzazione fin dal prossimo mese. Una buona legge elettorale, frutto di una mediazione fatta nel lavoro tra i gruppi parlamentari, tra maggioranza e opposizione. È il momento di approvarla. Alle accuse della minoranza DEM, che etichetta la direzione come un conclave sulle riforme, è il vice segretario PD, Lorenzo Guerini, che ricorda come la legge elettorale sia già stata modificata al Senato, accogliendo gli spunti della minoranza. Il Partito Democratico discute nei propri organismi dirigenti. Lunedì abbiamo la direzione, poi affronteremo la discussione nei gruppi parlamentari. Io credo che valga il principio, che una volta che si decide insieme, poi si cerca insieme di portare avanti la linea che si è condivisa. Ma è proprio il frutto di questo accordo di maggioranza che non piace a Forza Italia. Tanto perché gli italiani capiscano, se passasse l'Italicum 2.0 voluto da Renzi, il segretario di partito, nonché presidente del Consiglio, avrebbe tutto in mano. Avrebbe i candidati, la nomina dei candidati del suo partito, avrebbe il premio di maggioranza al suo partito, con una sola Camera deciderebbe tutto e con il Senato a fare da ruota di scorta. Un uomo solo al comando, a prendere tutte le posizioni istituzionali e governare per i prossimi 20-30 anni. La fine della democrazia.